Annetta Altobello, la prima donna del Partito Democratico, ma non solo, la prima donna a Cava dei Tirreni, tra l'altro giovanissima, per numero di voti all'esito di queste urne. Come è andata? Allora è andata benissimo, ho un risultato veramente eccezionale, ho avuto 789 preferenze. Nella città di Cava dei Tirreni ma nessuna donna ha ottenuto questo risultato. Un po' inaspettato, però mi rende felice perché significa che in questi anni ho seminato bene e quindi ne ho raccolto adesso i frutti. Io sono stata consigliera comunale per circa 4 anni e nell'ultimo anno e mezzo sono stata nominata assessore alle attività produttive e quindi mi fa veramente onore aver raccolto questo consenso perché, ti ripeto, significa che in questi anni ho seminato qualcosa e adesso ne sto raccogliendo i frutti. Ecco, come sono trascorsi questi 5 anni, soprattutto l'ultima parte in cui lei ha svolto la carica di assessore, colloqui costanti con Confcommercio, Confesercenti, con tutte le attività di categoria? Sì, allora, diciamo che purtroppo in un anno e mezzo essere assessore alle attività produttive diventa anche un po' complicato, cioè nel senso non si può pensare ad un progetto grande perché i tempi ovviamente erano stretti, però in questo anno e mezzo ho cercato comunque di portare dei risultati a casa. Abbiamo fatto il bando delle migliorie al mercato che era molto richieste dai operatori del mercato e adesso, diciamo, c'è tanto lavoro ancora da fare perché oltre al bando di migliorie si dovrebbe fare un bando generale proprio per il mercato per sistemare completamente tutta l'area. Ho lavorato sul bando dei taxi, infatti adesso a breve verranno rilasciate delle tre licenze per quanto riguarda i taxi. Sono stata sempre in stretto contatto con la Confesercenti, Confcommercio, CNA, ho sempre cercato di raccogliere le loro istanze e nel mio piccolo ho cercato di dare sempre delle risposte anche a loro. Tra l'altro un'attività ancora più complessa dall'emergenza Covid. Sì, è stato un periodo molto critico e purtroppo lo ho ancora. Le attività commerciali sono rimaste chiuse per diversi mesi e ovviamente loro si aspettavano da parte nostra un sostegno economico. Abbiamo tentato di fare questa battaglia però purtroppo non è semplice, nel senso anche per quanto riguarda la Tari abbiamo tentato di ridurre o quantomeno eliminare per i periodi di chiusura la Tari ma non è stato possibile perché le nostre entrate sono quelle. Se non avessimo fatto pagare la Tari e le attività commerciali ovviamente questa somma che andava a mancare doveva essere poi suddivisa per le altre utenze e quindi significa che l'utenza domestica avrebbe subito un aumento della Tari per quest'anno. Dato che noi non abbiamo voluto questo perché giustamente è stato un momento di crisi per tutti. Adesso vediamo, sperando che le cose si risolvano, che lo Stato ci possa dare un aiuto in modo che noi possiamo, diciamo, si arriveranno dei soldi al Comune la prima cosa che faremo sicuramente sarà quella di dare un grande aiuto a queste attività che hanno subito molti danni in questi mesi. Ecco, adesso ci sono lavori a Palazzo di Città, si discute per quella che sarà la composizione della nuova giunta, la luce appunto di quelli che sono gli esiti delle urne. Lei dicevamo un ottimo risultato, immagina, spera in un riconoscimento da parte del Sindaco Servalli. Vediamo, in queste ore sono ore un po' calde, nel senso che adesso tra pochi giorni, tra una ventina di giorni più o meno ci sarà l'insediamento del Consiglio Comunale insieme al Sindaco e ovviamente il Sindaco in questi giorni dovrà lavorare per creare una squadra assessoriale. Io ho dato tutto a me stessa, adesso sarà il Sindaco a decidere, perché è lui che dovrà decidere chi sarà appunto la sua squadra assessoriale. Io sono a disposizione, quindi niente, siamo nelle sue mani, che sicuramente sorprenderà delle scelte sagge e giuste.